E' online il teaser trailer comandante. Il film di Edoardo De Angelis che sarà presentato come film d'apertura in concorso all'ottantesima mostra. Internazionale d'arte cinematografica Venezia. Il protagonista del film è Pierfrancesco Favino. In cima alla Power List 2023 del cinema italiano stilata dal quindicinale box office e dal mensile. Best Movie. Favino è l'attore più influente del cinema italiano degli ultimi 12 mesi. Garanzia di incassi e qualità dei film a cui prende parte. Nel cast del film anche Massimiliano Rossi. Johan Eldenberg e con Silvia D'Amico. Ecco anche la sinossi ufficiale all'inizio della seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile cappellini della regia marina. Nell'ottobre del 1940. Durante la navigazione nell'Atlantico. Nel buio della notte appare la sagoma un mercantile che viaggia con le luci spente. Il cabalo. Chesi scoprirà poi essere di nazionalità belga e carico materiale bellico britannico. Che all'improvviso apre il fuoco sul sottomarino e sull'equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda a colpi di cannone il mercantile. Ed è a questo punto che il comandante prende una decisione destinata a entrare nella storia salvare. I 26 naufraghi belgi condannati ad annegare in mezzo all'Ocean o per sbarcarli nel porto sicuro più. Vicino. Come previsto dal diritto del mare. Per accoglierli bordo è costretto a navigare in superficie per tre giorni. Rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo rischio la sua vita e quella dei suoi uominia. Rischio. Quando il capitano della cabalo. Sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre. Gli chiede perché si sia esposto a un simile rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso. Comando. Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso un leggenda perché siamo italiani. Il film è diretto Edoardo De Angelis. Con una sceneggiatura scritta dallo stesso De Angelis e Sandro Veronesi. Da cui è tratto l'omonimo romanzo Edito Bompiani. Le musiche del film sono composte da Robert Del Naya. Comandante è una produzione Indigo Film. O Groove Rai Cinema. Trump Ltd. V Groove. Wise Pictures Associazione Beside Production. Collaborazione Paramount. Ed è prodotto da Pierpaolo Verga. Nicola Giuliano. Attilio Razza. Edoardo De Angelis. Francesca Cima. Carlotta Calori. Viola Prestieri Associazione Maria Giovanna Angelis e Antonio Miyakawa. Collaborazione Marina Militare. Cine Città. Le vendite internazionali sono curate da True Colors. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. Enrico De Luigi. Per gentile concessione di 01 Distribution.